Tiro via le storie perché mi state rompendo il cazzo in privato, ma io non mi dispongo in privato perché non ho niente a cui spartire con voi. Ho visto che avete aggiunto altra gente alla merda che vi state tirando avanti, sono mesi che andate a fare i coglioni, se fate minchia, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, vi rendete conto? Una volta si parlava tanto di fare i rapper, di fare quelli da strada, che poi voi vi siete sempre vantati di essere i rapper da strada di sto cazzo e non... E quando c'è da dimostrarlo, veramente, di fare il rapper non lo fate. Non esistono più i d***i. Come al solito, tante belle parole, uno di 40, l'altro con la mascherella di cazzi, che per avere un po' di fama deve andare a striscia la notizia, la Nerone che si mette in mezzo a random così a buffo, Henry che parla, tanto quello puoi... Cioè, boh, non lo so, avete rotto il cazzo, fate musica, fate musica per favore, non cagate il cazzo alla gente, che sti teatrini di merda, la gente adulta che ha anche una visibilità. Non è che ci attacchiamo all'hype, a parte che lo sanno benissimo che qua in Italia gli unici che riescono a fare hype e a portarvi qualcosa realmente, come contenuti, siamo noi. E non ci pigliamo per il culo, che qua i magazine sono tutti morti tranne noi. Beh, raga, uno ha 40 anni, e minchia, indipendente, serio, malandrino, sono malandrino, e piange perché quello gli ha tolto il follower. Minchia, mi pare di diluvio. Quell'altro, c'ha la maschera, avete detto tutto. Poi, minchia, sputtanarvi con i messaggi privati tra di voi, sai cosa risulta? Uno, che siete due infami. Due, che, minchia, vi sputtanate con le cose private, che alla fine viene solo fuori la merda e il peggio da tutti. ...e vostre cose. Con voi è una battaglia già vinta in partenza, perché mille volte avete provato a tirarmi in mezzo con le vostre cose. Vieni di qua, vieni di là, facciamo questo, facciamo quell'altro. Non vi ho mai cagati di striscio. Non vi ho mai cagati di...